Prosegue incessante l'attività della squadra mobile di Macerata, impegnata nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città e in provincia. Nell'ambito di un servizio antidroga svolto nel Maceratese, nella giornata di ieri gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile hanno arrestato un cittadino italiano di 35 anni, residente in provincia, disoccupato, incensurato, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi. L'attività d'indagine trae origine dal costante controllo dell'attività di spaccio di pusher nella zona tra Civita Nova Marche e Macerata. Al termine degli accertamenti di rito, l'arrestato è stato associato al carcere di Montacuto, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. L'operazione condotta dai poliziotti della squadra mobile maceratese risulta essere fiale più importanti degli ultimi anni, in considerazione dell'enorme quantitativo rinvenuto di sostanza stupefacente del tipo ashish e marijuana. Sicuramente derivante dalla dedizione e dall'impegno costante dei poliziotti della questura di Macerata, in particolare in questo caso della sezione antidroga della squadra mobile. È un'attività costante di monitoraggio finalizzata proprio alla repressione dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti che ci ha consentito di individuare e poi di arrestare il soggetto per detenzione. Sono stati rinvenuti circa 58 chili di sostanza stupefacente fra ashish e marijuana, in particolare 53 chili e mezzo di ashish e circa 4 chili di marijuana, suddivisa tutte in panette pronte per la consegna e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre a strumentazione a materiale atto per il confezionamento, 6.000 euro circa in contanti di vario taglio e oltre è stato sequestrato un telefono cellulare e poi sono state inoltre anche individuate e è stata rinvenuta anche una pistola a scacciacani priva del tappo rosso insieme a diversi, un caricatore con otto cartucce e insieme ad altre cartucce priva dell'innesco. Il soggetto veniva costantemente monitorato proprio al fine di risalire, di ricostruire quelle che era un po' la sua quotidianità. Quindi questo ci ha consentito poi di individuare anche poi l'appartamento per poter procedere poi con una perquisizione che poi si è rivelata positiva. Era destinato certamente alla movida della costa, quindi nel triangolo diciamo potremmo definire anche Civitanova, Porto Recanati e comunque anche nella zona della provincia del Maceratese. Quindi questo ovviamente poi con eventuali comunque attività di indagine consentirà comunque di risalire e di raccogliere certamente elementi più precisi. Parlo qui in questa occasione solo per ringraziare il dirigente della squadra mobile, le donne e gli uomini della squadra mobile che giornalmente mettono tutto il loro impegno al servizio dei cittadini, della cittadinanza e di tutta la provincia. Come dico spesso dietro a un risultato visibile c'è tanto tanto impegno e ci sono nottate alla pioggia, nottate insonni per raggiungere l'obiettivo che è sempre quello di dare sicurezza ai cittadini. L'impegno nel traffico di stupefacenti, nel contrasto al traffico di stupefacenti e allo spaccio di sostanze stupefacenti è costante, è giornaliero e molto spesso invisibile, ma quando viene alla luce dà la misura di quanto sia importante per la questura di Macerata contrastare questo fenomeno tristissimo e deleterio dello stupefacente. Ringraziamento al nostro Dipartimento per l'attenzione che ha Macerata, molto spesso sentivo parlare di attenzione verso le province. Il nostro Dipartimento ha avuto una grandissima attenzione per la questura, inviando, arriveranno a giugno credo, i nuovi 15 agenti che saranno destinati a parte puntellare qualche ufficio servente a tutti noi, è ugualmente importante, andranno a potenziare squadra mobile, volante, settore dell'anticrimine, sono settori fondamentali per tutti noi e per tutta la cittadinanza e questo è riconosciuto il grande lavoro, il grande sacrificio, il grande impegno che è stato messo da tutti i colleghi in questo anno e da tutte le poliziotte e i poliziotti che ripeto sono, sento di dire veramente, sono una garanzia per tutta la città e la provincia.